Siamo in ultima linea, non soltanto per quanto riguarda, per esempio, i grandi, le problematiche umanitari, ma quando sono trovata da una persona generale, questo è un passo molto importante perché mostriamo, diciamo, un'immigrazione che può essere controllata nel senso positivo senza che non ci sia lo sottotitamento delle persone, tutto il quale è la verità, tutta la figurata e soprattutto senza sottoporre i migranti alle tragedie nelle quali viaggiavo ultimamente sui modi, non siamo più in una linea per rispetto. Sì, nel senso secento avvivano diversi stranieri, sono stati più numerosi anni, poi anche i datori di un'usata che hanno subito un primo straniero, un po' di un metodo di un rischio di potere. Io, di chiama che è la crescente, molto in quale fa la mia comunità, riconoscono, conoscono, dipende, i doni, i miei nonni e così sia. Detto di me è il conto in giro della famiglia Griglie e della famiglia Griglie, la famiglia Griglie è tedesica, la famiglia Griglie è un parco di San Gallo. La famiglia è quadrata con il marmo, non so se è ugualmente presente, vede che la fontana è stata costrita da Velenico Griglie, proprio perché non c'era acqua nelle case. e allora avevamo pensato che era giusto che si potesse raccontare l'acqua. Ancora oggi funziona. E quando io passo vedo tanta gente con il bidone che raccontano l'acqua. e quindi, così penso, guarda, io ho bisogno proprio di questo. ...e degli anni commerciali e degli anni finanziari che sforgevano Messina. Questa è un'immagine che ti ho fatto vedere più volte e non ho distanto mai di farla vedere perché è l'immagine più bella del posto Messina in piena attività. Siamo nel 1791, quasi dopo il terremoto del 1783, alle spalle, cioè quello che noi vediamo, da dove è stata l'introdotto a queste immagini dove è stato fatto questo quadro, ecco, giusto per riuscire a capire cosa significa fare in presa. Non era solo fare dei profitti, ma anche dare un'altra roba d'altro. E teniamo ad esempio che, per esempio, ci sono i presi già un gruppo che avevano avuto diversi cappellani, non perché si erano susseguiti otto diversi, di undici diversi cappellani, ma perché dovevano approfittare, per poter battezzare i figli, dovevano approfittare la presenza della storia di cani che erano di passaggio. Per esempio, uno era un cappellano, un'altra nave militare in presa. e da altri 8 diversi ministri che risiedevano per un brevissimo tempo a Palermo. Grazie.